Guardandovi la corso è una emozione straordinaria, ricordo le serate di Capodanno con il corso del deserto, vedo stasera invece la nostra Avellino, la nostra Avellino! E di questo dobbiamo essere tutti indogliosi, e noi lo stiamo facendo insieme, sono contento che insieme a tutto il mio gruppo siamo regalati una serata straordinaria, e la cosa più che mi sono visto di più è che finalmente la felicità è diventata uno stato d'animo, siamo contento di un'esperienza felice, orgogliosa di essere presente a Capodanno, e allora stiamo concludendo le gambe del 2022, ma soprattutto ci aspettiamo un grandissimo 2023 per cui facciamo tantissimi auguri!